Ciao a tutti e benvenuti sul Prezzo e Recensioni. Oggi voglio presentarvi la mia classifica dei 5 migliori router Wi-Fi presenti sul mercato. Ma prima di iniziare con la lista, vi ricordo che troverete tutti i link per acquistare i prodotti menzionati sotto al video in descrizione o nel primo commento. Iniziamo! Al quinto posto troviamo il TP-Link TL-WR841-NN300 Router Wi-Fi, un prodotto dal prezzo contenuto ma con un'ottima velocità di trasmissione dati fino a 300 Mbps. Si tratta di un'ottima scelta per chi cerca un prodotto economico ma affidabile. Al quarto posto abbiamo il TP-Link Archer C6 Gigabit Router Wi-Fi, un router che offre una velocità di trasmissione dati fino a 1200 Mbps grazie alla sua tecnologia Dual Band. Inoltre, questo router dispone di 4 porte LAN Gigabit per connettere dispositivi cablati. Al terzo posto troviamo il TP-Link Archer Verona 1210 V-Modem Router e VDS e fino a 300 Mbps, un prodotto che offre una velocità di trasmissione dati fino a 300 Mbps grazie alla sua tecnologia VDS L2. Inoltre, questo router dispone di una porta LAN Gigabit per connettersi alla linea Internet e di 4 porte LAN Gigabit per connettere dispositivi cablati. Al secondo posto troviamo il Netgear Router Wi-Fi 6AX 2400R AX30, un router che offre una velocità di trasmissione dati fino a 2400 Mbps grazie alla sua tecnologia Wi-Fi 6. Inoltre, questo router dispone di 4 porte LAN Gigabit per connettere dispositivi cablati e di una porta LAN Gigabit per connettersi alla linea Internet. E al primo posto abbiamo la VM Fritz. Box 7530 AX Edition International, un prodotto che offre una velocità di trasmissione dati fino a 2400 Mbps grazie alla sua tecnologia Wi-Fi 6. Inoltre, questo router dispone di una porta LAN Gigabit per connettersi alla linea Internet e di 4 porte LAN Gigabit per connettere dispositivi cablati. Questo router si distingue per la sua ottima copertura Wi-Fi e per la sua affidabilità. E questo è tutto per la mia classifica dei 5 migliori router Wi-Fi. Vi ricordo che trovate tutti i link per acquistare i prodotti menzionati sotto al video in descrizione o nel primo commento. Grazie per aver guardato questo video e alla prossima sul Prezzo e Recensioni!